Per la strada Tutta la vita Guarda com'è finita Per le spiagge Tutti a ballare Alle finestre Per guardare Con le navi Gli aeroplani Passa l'aria Tra le mani E' seduto Il pescatore Sta aspettando Lì da ore Che il paesaggio Ha il suo davanti Sei disegni Tra i passanti Nel paese portuale C'è un bambino criminale Con un salto Tra i gabbiani Li spaventa Con le mani Via 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 Bocca che passi Sorridi Non sbagli Vai Ci pensi Dai Agli errori Che fai Basta guardare Davanti Lo sai perché Lo scopri Dai E li sono Per te Soffia l'aria Del passato Mi seduta In mezzo al prato Il mio posto Bellissima musica Del duo Artemisia Che ci accompagnerà In questa nuova avventura A Spencer TV L'avventura Di un nuovo programma Il mio posto Per valorizzare Nel nostro territorio Tutte le persone Che stando al loro posto Perché stanno A loro agio Con quello che fanno Migliorano Le condizioni di vita La qualità della vita Il rapporto con le persone E noi questa sera Iniziamo subito A incontrare Grazie anche All'idea Di questa trasmissione Che proprio Prende le origini Da questa canzone E del duo Artemisia All'interno della quale Avete potuto sentire Non solo una melodia Meravigliosa Ma anche Delle bellissime parole Cominciamo oggi A raccontare La storia Di un personaggio Al quale io sono Personalmente Molto affezionato Per tutto quello che fa Per il modo Con cui fa Alcune cose E chi è questa persona È l'architetto Viviana De Ruto Per l'anima Per l'anima Per l'anima Per l'anima Sì Per l'anima